Venerdì prossimo all'auditorio Le Fornaci di Terra Nuova a Bracciolino un appuntamento da non perdere. Sì, siamo alla fine della nostra rassegna Curiosity, rassegna che Cantestras realizza Le Fornaci dedicato al teatro contemporaneo e chiudiamo in grande stile con il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, Laica. È uno spettacolo che si basa su una drammaturgia in pieno stile Celestini, quindi grottesca, ironica, ma che affronta una tematica molto importante e un po' cara a tutto l'Occidente, che riguarda le origini del cristianesimo. Infatti Celestini torna sulla Terra come novello Gesù Cristo, ma questa volta non per agire, ma per osservare. E quindi ripercorreremo tutti i gruppi dell'Occidente sulle origini del cristianesimo. È uno spettacolo divertente, interessante e che offrirà anche parecchi spunti di riflessione. Vi aspettiamo venerdì sera alle 21.15. Su festivaldiffusioni.com troverete tutte le informazioni per prenotare i biglietti o per sapere di più dello spettacolo.